La sede nel cuore di Bari è costata mille euro, un'inezia rispetto alle spese folli delle campagne elettorali. L'hanno autocostruite i giovani che sostengono la candidatura di Minervini riutilizzando di tutto, legno, plastica, vetro. Sarà il comitato hub centrale della Puglia e diventerà luogo simbolo delle politiche che l'assessore regionale vuole mettere in campo per vincere le primarie e battere la crisi. L'attuazione organica dei semi che ha sparso in dieci anni nell'aggiunta vendola, un incubatore che sarà progetto e processo aperto a tutti, obiettivo valorizzare idee, energie e talenti, soprattutto giovani che vogliono darsi da fare per cambiare le cose. Se tocchi le corde giuste delle persone, se fai capire che in gioco è il loro destino, che ha un senso prendere parte a questa vicenda, possono accadere delle cose imprevedibili. La possibilità di fare della Puglia un laboratorio delle opportunità. Al primo punto un piano straordinario di cura del territorio pugliese. In tre anni 5.000 disoccupati coinvolti a 1.000 euro al mese per risanare l'ambiente ferito. Torrenti, corsi d'acqua, opere d'arte, musei. I fondi, dice Minervini, deve trovarli la politica imprimendo un indirizzo coraggioso e diverso alla spesa europea. Allora un piano straordinario, 300 cantiere per 5.000 giovani, piccole imprese, professionisti disoccupati, per restituire sicurezza e bellezza alla Puglia anche ai fini delle potenzialità di sviluppo turistico.